C'è un primo effetto politico ma non istituzionale dopo le polemiche sulla strada della discordia intestata a Pino Rauti. L'assessore e segretario del PD Umberto Marra, additato dalla segreteria regionale del suo partito come il compagno che sbaglia, difende la delibera con cui Cardinale omaggia il parlamentare postfascista e non si piega l'out-out dei vertici. Il Partito Democratico dice che lei dovrebbe prendere le distanze da questa delibera della discordia. Vabbè, ormai la delibera è stata fatta. Cosa replica al segretario Magorno? Al segretario Magorno io non ho letto veramente la sua dichiarazione ma mi è stata riferita dicendomi che loro mi avevano avvisato di non votare questa delibera. Cioè veramente non ne abbiamo mai parlato. Lei non obbedisce all'invito che le fa la segreteria? Non posso prendere le distanze perché l'ho votato. Prendo le distanze dalla scelta che hanno fatto della festa su Pino Rauti, non condividendo le idee di Pino Rauti. Io ho avuto una certa contrarietà nel senso che non ho partecipato né alla organizzazione della festa né fisicamente ho partecipato alla manifestazione in quanto sono di sinistra. Il caso, al di là degli effetti locali che potrebbe avere vista la critica all'enfasi della cerimonia, ripropone il tema del rapporto tra il PD e i suoi amministratori. Io ho riunito il direttivo di Cardinale e ho presentato le mie dimissioni da segretario del Partito Democratico. L'Assemblea per il momento ha soltanto preso atto e abbiamo rinviato a una nuova riunione che si terrà martedì sera alla presenza degli esponenti regionali per decidere sulla questione. Un braccio di ferro anche simbolico di un partito che è un puzzle di enclavi autonome che Marra affronta tenendosi stretto il ruolo amministrativo che ha. Non è stata una delibera solo per Pino Rauti, è stata una riqualificazione della strada di un quartiere che si chiama Cucumella. Ma lei lo sapeva di vivere in un paese post-ideologico in Italia in questo momento? No. A Cardinale minimizzano ma il clamore dell'intitolazione a Rauti di una strada ha fatto il giro del mondo. Nel piccolo centro del versante ionico delle serre catanzaresi la via che porta il nome dell'ideologo delle frange della destra eversiva, voluta anche da un assessore del PD, sembra la fotografia di un'Italia che supera gli odi del passato. Sulla collina di Cucumella però di Marmo è solo l'epigrafe del Repubblichino che negli anni 50 fu in carcere per gli attentati alle sede dei partiti, i cui leader sono ricordati con altre strade vicine. Questo è il cartello della discordia, è qui che è avvenuta la cerimonia di intitolazione a Pino Rauti di questa strada nuova del quartiere. L'epigrafe Scarna riporta solo il nome con cui era conosciuto Giuseppe Umberto Rauti senza l'indicazione di alcun titolo della sua biografia. È stata festa per il parlamentare nato a Cardinale e cresciuto a Roma senza mai rinnegare il fascismo. Sono venute anche le figlie Alessandra e Isabella ma il paese ancora oggi si divide. Io quando ho partecipato al congresso di Rimini Pino Rauti ci diede una dedica su uno striscione e ha scritto a Cardinale la mia Cardinale. Quello che ha fatto per Cardinale non ha fatto nulla per il suo paese, giusto? È stata sempre una contraddizione nella politica da parte sua che se l'ha fatta sempre a humma humma. La toponomastica che prima non c'era susciterà pure polemiche storiche ma i cittadini della capitale italiana della post-ideologia novecentesca però pensano al futuro. Vogliamo paghi, hai la patente, tutto, capite? Agostino Pantano per la Cineus 24 Agostino Pantano per la Cineus 24